Sono Maria Rosa Chiara Mercatante. Ho presentato un elaborato nel quale ho affrontato il problema relativo al ruolo e ai compiti dello Stato. Lo Stato, per la teoria liberale classica, è insopprimibile. Lo stesso può essere tenuto a svolgere dei compiti limitati e di servizio verso la libera cooperazione sociale. I bisogni individuali, infatti, devono essere realizzati tramite la cooperazione sociale e non mediante degli interventi protettivi o redistributivi del potere politico. In sostanza, lo Stato deve essere minimo, deve garantire la sicurezza e non sostituirsi all'individuo in tutto ciò che quest'ultimo può fare. Del resto, Nises ha insegnato che l'interventismo non sottrae ai cittadini tutta la libertà, ma ciascuna delle misure adottate porta via una parte di libertà e limita il campo d'azione.